appassionati di noir veramente drizzate le antenne paura il gesto è riconoscibilissimo è quello di carlo lucarelli che sarà ospite della prossima puntata del cacciatore di libri in onda sabato 16 gennaio alle 6 e 30 per i mattinieri e alle 22 per tutti gli altri ma come sempre c'è il podcast ci parlerà del suo nuovo romanzo il tempo delle iene pubblicato da inaudi dove ritornano due personaggi che ormai sembrano essere destinati a diventare personaggi seriali ovvero il capitano colaprico e il carabiniere ogba è una storia è un giallo naturalmente un poliziesco che si svolge nell'eritrea colonia italiana dei primi del novecento appuntamento dunque con il cacciatore di libri su radio 24 sabato 16 gennaio alle 6 e 30 del mattino e alle 22 e poi come sempre il podcast